Ci furono finanziamenti che determinarono gravi perdite per Banca Etruria, ma si trattò di operazioni rientranti nel normale rischio di mercato oppure di movimenti in cui la banca fu truffata da chi aveva chiesto il prestito. È questo il filo conduttore delle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 1 ottobre il Tribunale di Arezzo assolse 22 imputati dalle accuse di bancarotta fraudolenta e semplice reati che per i giudici non furono compiuti. La sentenza esamina i passaggi dell'inchiesta a partire dall'operazione su Villa San Carlo Borromeo, 21 milioni persi da Banca Etruria, dove secondo l'analisi l'istituto di credito fu vittima di una truffa da parte di Armando Verdiglione che presentò un rating fasullo, ma questo all'epoca si legge nelle motivazioni, gli amministratori finiti sotto accusa non potevano saperlo. Lo stesso discorso vale per il finanziamento privilegiard sulla costruzione di quello che avrebbe dovuto essere lo yacht più grande del mondo. I 25 milioni di euro concessi presero la via dei paradisi fiscali ai Caraibi, ma pure in questo caso gli amministratori ne erano ignari. Infine, la più grossa delle sofferenze di Banca Etruria, con 60 milioni finiti in fumo, il prestito alla società Sacci. Anche in questo caso, però, secondo il Tribunale, tutto ciò era imprevedibile all'epoca in cui fu deliberato il finanziamento. L'unico tra gli ex consiglieri condannato è stato l'imprenditore Alberto Rigotti, a sei anni di reclusione.